E' troppo carino. Ma ieri c'è un altro, un altro ieri? Sì. Ah ecco, mi ricordavo di averti già ripreso. Questo invece che cos'è? E' Band di One's Upon a Time. One's Upon a Time. Che è un videogioco? E' una serie di tv basata sulle fiabbe Disney. C'è l'ombra, alza un po' la tento. Ok, grazie.